Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino e 5 km di coda per lavori tra Incisa Reggello e Arezzo. Sempre in A1 ma in direzione Bologna per lavori corsie di destra chiuse tra Firenze Impruneta e Firenze Scandici. Per questi lavori chiuso lo svincolo di Firenze Impruneta in uscita provenendo da Roma in entrata verso Bologna e 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Spostandoci in A11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A12 code tra Carrara e l'allacciamento con la 15 verso Genova. Infine in Fipili per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna, 3 km di coda in direzione Firenze e 2 km di coda in direzione Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!